Consigliere, ci può spiegare qual è stata la problematica riscontrata da voi in questi giorni? La problematica di questi giorni è la variazione non sostanziale, e ci tengo a dirlo e a specificarlo, del piano regolatore comunale. In questo anno diciamo che ne abbiamo fatti parecchi di cambiamenti a questi piani regolatori, abbiamo sempre assecondato le idee, ma questa volta è stata proposta questa variazione in un consiglio precedente, in cui eravamo contrari, ed è stata nuovamente riproposta in quanto ci sono state delle osservazioni. Le osservazioni vengono da una buona parte della cittadinanza, ma questo per il sindaco è rilevante, visto che ha detto chi sono questi, perché c'è un filmato da visionare tranquillamente, in cui non si fa testo comunque di un'associazione che ha circa 5.000 iscritti e ha raccolto 5.000 firme, e tutto viene perché questa modifica interessa anche queste due case che vedete dietro, del piano regolatore. È una modifica che andava fatta da tantissimi anni, forse 30, e dalla fusione dei due comuni, tra Sant'Angelo e Colbordolo, questa modifica dopo 7 anni hanno deciso di farla proprio in questo momento. Sapete tutti che è un momento forse di quelli più sospetti, non volevamo dirlo, ma l'abbiamo detto anche in consiglio. Quindi il nostro voto contrario è stato solo per il fatto, non che non teniamo di recuperare queste case, perché sono la nostra storia nel territorio, ma se fosse stata decisa negli arco degli anni precedenti, perlomeno non in questi tempi sospetti, sarebbe stata una buona cosa, anche perché in questo tempo parecchie di queste case sono andate alla malora, non hanno più un'utenza, non c'è più una strada. Dopo questa modifica, che è stata votata a favore da tutti, tranne che da noi, sono stati ben rapidi a indire un comunicato stampa, per far apparire a tutti una cosa meravigliosa. Non è una cosa meravigliosa nel momento in cui in consiglio comunale si esce fuori anche con un discorso non inerente al momento che si stava discutendo, ma esce fuori il biodigestore, in cui sono stata zittita due o tre volte e questo non è giusto. Ho dovuto interpellare il presidente per farmi parlare e quando vai a toccare, diciamo, nella piaga, qualcuno fa male. Non c'è purtroppo un confronto politico sul discorso dell'impianto, che è forse il problema più importante del momento a Vallefoglia. Le persone hanno uno scontento. A distanza di circa un anno in cui è stato promesso in consiglio comunale un'informazione omogenea a tutta la popolazione, qua non si sa niente. Il progetto è stato presentato solo nel comune di Tavuglia, però il biodigestore viene costruito qua, come vedete, e noi seguiamo, brutto dirlo, la linea politica del 5 Stelle in Regione, in cui dice costruire su costruito e ridimensionare questi mega impianti, che non ci servono un impianto del genere.